Eccoci con Paolo Crepè, questa espressione magica, imparare a essere felici in una realtà, in una società, quella odierna che travolge tutto e tutti, che ci stritola, che ci fa perdere l'amore per le piccole cose e in quelle piccole cose a mio avviso c'è la felicità. Sì, ma io penso che la felicità sia a prescindere dalla politica, dall'economia, dagli stati, la felicità è una cosa individuale, la cerchi, la puoi trovare in mezzo al Borneo, la puoi trovare all'ultimo piano di un grattacielo a New York, la puoi trovare qua davanti, prima è venuto davanti a me un sommergibile, non l'avevo mai visto, mi sono chiesto se uno sotto l'acqua lì può essere felice. Che ne so, è una cosa, per fortuna è una cosa in cui la politica proprio non c'entra niente, anche perché la sciuperebbe, se la felicità dipendesse dalla politica, sembra un disagio, perché la sciuperebbe così come sciuperebbe. Perché la politica rende infelici i cittadini. La politica rende un po' infelici è un eufemismo, rende un po' arrabbiati credo. Ecco, la metodologia per imparare a essere felici, io voglio essere felice, come posso attrezzarmi? La felicità non si insegna, si impara senza saperlo. E come? Io ho imparato da mio nonno che faceva delle cose simpatiche, lui era un artista, tutti i miei nonni erano artisti, io ho passato molto tempo con loro. La felicità è un apprendimento non rapido, ha bisogno di tempo, ha bisogno di serenità. Si può disimparare la felicità? Cioè perdere la capacità di imparare la felicità ed essere condannati all'infelicità? No, no, adesso questa mi sembrerebbe una cosa un po' biblica. No, io credo che quando... Allora, la felicità non è uno stato e quindi quando l'hai raggiunta l'hai già persa, non devi cercare un'altra. Quindi il bello della felicità è che è neurotica, che come hai raggiunto un posto subito, è come quando uno si è un po' compulsivo, che va in un posto, lo guarda, poi subito c'è un altro paese da andare a vedere con quei turisti compulsivi che ci sono. Oggi si è compulsivi davanti a uno smartphone, si chatta e si perde la felicità, non si dialoga più, ci si spersonalizza, si diventa automi. Ma sai, io sono un signore di una certa età e quindi ho una visione diversa perché ho vissuto in maniera diversa, ho vissuto gli anni in cui si faceva sì e no col telefono fisso, sì e no. E quindi io conosco un altro mondo, poi mia figlia è cresciuta con la tecnologia digitale, però non giudico, non bisogna giudicare i ragazzi, bisogna capire. Poi l'importante è che i ragazzi non si lamentino, ecco questa è una cosa insopportabile. Imparare a essere felici con Paolo Crepe. Buona serata.